risultato scuola, ma la gira perché con la gira c'è un po' meno come? e tu pensi con la gira? ancora c'è un po' meno ah, c'è già un mio suo pezzo e cadì? hai capito? si può mangiare sandiago e? ma che stai dicendo? ma c'è un ragazzo? ma c'è un po' li mangio le polpette li mangio le polpette ma c'è un po' perché che succede? e questo polpetto ma è un polpetto e cos'è un po' che succede? non viene in clientiera niente faccio E' un po' di pezzi. sai vedi che stiamo prendendo le porfette